è la Grecia. È stata una trattativa molto lunga, però io ritengo che sia un successo importante per la Grecia, ma anche per l'Europa. La Grecia si sta avviando verso un sentiero difficile, duro, che ancora ha molti passi da fare, ma che va nella direzione giusta. Vorrei dare atto alle autorità greche di aver preso grandi misure negli ultimi giorni in tema di aggiustamento strutturale e alle istituzioni di aver trovato un accordo importante, che è un segnale per la Grecia, ma anche per la stabilità finanziaria. In questa fase storica in cui le questioni fondamentali e le scelte fondamentali sono tante, il successo del negoziato greco è incoraggiante. Un altro argomento che ricordo qui, che è stato oggetto della discussione in Ecofin, peraltro, ovviamente non in Eurogruppo, sono i risultati recenti del processo e continua di coordinamento sul piano dei temi fiscali, di applicazione a livello di Unione Europea delle misure elaborate nell'ambito del progetto BEPS, dell'Ocse, che naturalmente si sviluppa anche a livello di G20. In questo caso l'Europa sta continuando a fare passi avanti verso la costruzione di un regime fiscale omogeneo che abbia come scopo principale quella della lotta all'erosione, la lotta anche all'evasione, ma in generale al sostegno alla trasparenza e alla creazione di un level playing field in campo fiscale. naturalmente essendo necessario trovare un accordo a 28 Paesi, a volte ci sono elementi difficili ma la direzione continua a essere questa. Mi limitro a questi due aspetti che sono importanti nell'agenda di questa tornata Eurogruppo Ecofin e naturalmente aspetto le domande.